A presto buona allora ragazzi che cosa andremo a fare oggi a Yayao perchè Yayao ha fatto il prank a me allora noi andremo a fare il prank a Yayao perchè Yayao è una brutta bambina piccola quindi che scherzo andremo a fa' scusa un attimo perchè hai una banana in camera? perchè dovevo mangiare il potassio ah per i crampi ah c'è pure boss ciao boss andremo a prendere una sigaretta non so, ma ce l'ha data boss? no l'ho presa da francesco un saluto a francesco un saluto a francesco amore ma perchè si abbracciamo noi vabbè francesco andate tutti a seguire francesco di bestie proprio lui fra mio fratello quindi ragazzi andremo a posizionare con questa cosa che è del male perchè questa fa soltanto del male non fumate assolutamente questa poi a fine video l'andremo a spezzare e buttarla dentro al camino col fuoco si deve bruciare ah scusate rega questa l'andremo a mettere dentro dentro di Ilaria perchè va a scuola direi che Ilaria e il ragazzo hanno una relazione sentimentale basta posiamo sta banana ok rega quindi siamo andati a metterla qua dentro come potete vedere eccola qua poi la moto sarella avrà dei fazzoletti in meno così da che schifoso che sei questo ora lo andremo a rimettere eh dobbiamo aspettare la lettura perchè sta danza a fare mi sono iscritta a tanza l'ho fatto per la panza la cincera un po' troppa a volte troppo stoppia si l'ho fatto per la panza ultima cosa più importante di tutti oltre a seguirmi qua sul canale questo qui andatemi anche a seguire su instagram perchè dobbiamo raggiungere i 50 mila follower no andate anche a seguire Simone Carcioli la video di Simo Si Official e Yayao quindi si allora rega allora ho sentito la macchina dovrebbe essere arrivato più padre e quindi c'è sta pure mia sorella la telecamera è nascosta aspettate allora ci sta questo coso davanti un po' tipo di peluche ci sta pure questo la devo rimettere su quindi rega allora è abbastanza non si dovrebbe vedere comunque ciao buongiorno come andata? come andata? normale senti un po' ma a me proprio lo zaino perchè? e poi lo prendi no io stavo cercando una penna no? eh? io ho aperto qua eh? niente non non ti preoccupa questa cosa è una penna che cosa vuol dire? che cosa vuol dire? mi sta più in giro? mi sta più in giro? non è mia mi sta più in giro? no ilaria mi sta più per culo? no oh guarda eh chi ci ha messo questa data? che ne so io ce l'ha messa te? che ne so? alberto alberto che non ilaria non mi viene in giro non mi viene in giro ma come posso io? stai pure a ridere stai stai pure a ridere mi sta più in giro? ma dove l'ho presa? dimmi beh l'avrei potuto tagliare in giro da qualcuno a scuola a amichetti che ne so io questa è la volta dritta oh no no aspetta questa è da fastidio oh non è mia ilaria che cosa vuol dire? au non è mia faccio vedere la tua madre poi per far vedere ma aspetta oh oh si oh aspetta oh ilaria forse non hai capito oh oh non mi vuoi fregare niente dalla amichetta tua la ilaria mi dirai che cos'è questa ma io che c'entro? dove l'hai presa? dove l'hai presa? che ne so io? guarda di mamma tra 1 e 3 non è mia allora questa io ora io vabbè io mando la foto con mamma si può sapere ma che ne so io? vabbè è questa per mandare la foto eeeh forse non hai capito non hai capito stavolta non la passisci ma non è mia non hai capito la foto con mamma guarda non è mia vabbè io la sto mandando poi vedi anzi mettila in bocca vai 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 non è mia eeeh ilaria perchè stai ridendo? perchè stai ridendo? perchè stai ridendo? ilaria mettiti questa butta gli do la foto con mamma mettila visto che ha quanto pare i fumi ma perchè non è mia ilaria ma ne sappia quando vedi in giro lo sai che fanno il vt ma ti sto prendendo in giro perchè stai ridendo? no simone perchè stai ridendo? oh ilaria perchè stai ridendo lo dico io perchè questo lo trova dentro la zona tua ti rivedo chi ti ha permesso poi di prendere il mio zaino? pure è mio e poi quella non è mia basta me lo rotti aspetta simone levati 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 vai simone vai 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 no non è tuo no perchè ridi? vai vai stupido dai vieni qua vieni qua vieni avvicinati di chi è questa? mia no e quella di chi è? dai ti odio guarda salutati tutti voi e lui vi odio simoo è riuscito? che è che taglio carico povera si è messa a piacere no no alla fine cioè no perchè no ritogli vuoi dare lo squeeze ilà ora fai la cosa bella vai a spezzare questa al bagno prendila vediamo come segno che non si fuma vai ilà ma fai vedere che la spezzi di più di più non si butterà com'è? ilà che si fa non si deve fumare giusto? scarichiamo scarichiamo ma regà per questo lì è tutto ora regà dai un bacio dai mi devi dare lo squeeze lo squeeze non lo avrai mai domani mai 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 quindi ragazzi per questo video è tutto abbiamo scoperto che regà fuma schifo 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 quindi ragazzi noi vi salutiamo Ilaria mi ha bagnato tutti i pantori ma che trovo mamma mia per questo video è tutto ciao ragazzi oggi mio fratello mi ha chiesto di girare un video con lui perché oggi è martedì ovvero il giorno in cui registra il video e io invece lo ignorerò ma per 24 ore Ma che bella giornata, oh la la, sorridi che ti passa, oddio, dobbiamo registrare il video Questa non è vera e non fa, quella si Grazie per la visione